Eccoci qua, con il buomo Ammadi, CEO di Mamazen e della Holding di H1. Non me lo ricordo in realtà, è così? Sì, è così. Mi fa anche strano, tra l'altro, farti delle domande. Partiamo magari ripercorrendo un po' quello che è stato il tuo percorso prima di diventare start-up e prima di diventare l'amministratore delegato della Holding Mamazen di H1. Ora te lo racconto perché so che tanto non te lo ricordi. Parlando del percorso, vabbè, è un percorso abbastanza eclettico, come sai. Nel senso che ho fatto il studio d'arte, giusto, non farò non mancare nulla, faccio i vestitini, le cose di moda. Poi sono passato a ingegneria meccanica, nel mezzo ho fatto il militare e ho avuto ancora una passione, io ho voluto fare il militare. Poi mio padre mi ha fermato, ho voluto anche fare il tatuatore a un certo punto e ho fatto il tatuatore anche in un certo periodo. Poveri tatuati. In realtà, in realtà. Quindi, fatto quello. Hai fatto un sacco di cose. Vuoi sentire anche le altre? Che ti hanno fatto crescere come persona e come venditore, mi sembra di capire. Hai avuto esperienze in start-up non tue, ma in start-up di altri, giusto? Esperienze che voi umani non potete neanche immaginare. Andando al periodo start-up paro, dopo aver fatto vendita in quarta rete, dopo aver diretto un gruppo di persone con RCS, avevo fatto Bacheca.it, che era una copica di Craigslist, lì ho fatto il direttore commerciale. E poi, dopo Bacheca, Glamour. Glamour perché mi piaceva molto questa cosa qui della pubblicità a risultato. Glamour è stato divertente. Siamo arrivati fino all'exit, pagine gialle. Data bene, ma non benissimo. Poi, niente, ho fatto, lo sai, ho fatto consulenza per centri di medicina estetica, cercando di aiutarli a digitalizzarsi. Quindi, di nuovo, digitalizzare le piccole aziende, alla fine, quello che facciamo adesso. E poi, niente, abbiamo fatto una start-up. C'eri anche tu. Esatto, è la start-up dove ci siamo ritrovati, che è una start-up che si muoveva nell'ambito della logistica e redotto impatto ambientale. Siamo partiti nel 2013-14. Tu sei partito prima. Come disperati. Sì. Nel maggio del 2013. Esatto, io ti ho poi raggiunto nel 2014. Dillo tu, insomma, è andata bene, dai. È andata bene, è andata bene. Perché all'epoca le raccolte non esistavano. All'epoca le start-up non raccoglievano. Cioè, il sistema, l'ecosistema start-upare italiano era un disastro. Abbiamo raccolto 750.000 in quattro round. Non in uno. Non c'era niente. Non in due e neanche la tre. E poi niente, però, al terzo anno... È andata bene. Mezzo milione fatturavamo al terzo anno. Al quarto, tre. Al quinto, sei. Poi, tre proposte sul tavolo... Abbiamo venduto. Zam, zam. Abbiamo fatto anche acquisizioni di due società. Oh, già. Quindi diciamo che siamo stati fortunati e anche bravi, dai. Fortunati. Ma la bravura, senza fortuna, conta poco. Fortu bravi. Poi siamo rimasti insieme. Che cari. Abbiamo deciso di continuare a fare il business insieme. Funzionavamo come amici. Abbiamo funzionato nel business da separati. Nel senso, tu nel tuo, io nel mio. Poi sulla start-up abbiamo lavorato fianco a fianco. E poi abbiamo deciso di montare il primo venture builder italiano. Oh, sì. Che ha preso il nome di Mamazen. A cui poi si è agganciato anche una holding di partecipazioni. Che si chiama, nel nostro caso, IH1. E tu, che sei l'amministratore delegato, il luminoso CEO. Il presidente e il CEO. Se vuoi provare a fare una cosa complicata e quindi picciarla in due minuti, o forse anche uno, puoi provare. Ah, così. Partiamo con le sfide. Va bene, dai. Picciamola in uno. In uno. In uno. Beh, Mamazen che cos'è? Mamazen è una fabbrica di start-up. Quindi non le incubiamo. Non è bello essere incubati. Non le acceleriamo. Insomma, ognuno ha la propria velocità. Ma le creiamo da zero. Ok? E l'obiettivo ovviamente è portarla ad exit. E il tutto insieme, ma Mamazen e IH1 sono un unico blocco che lavora insieme. Quindi la parte di creazione e la parte di soldi. Picciato? Hai picciato. È andata molto bene. Meno di un minuto. Che bravo che sei. Come focus... Ho imparato da te. Come focus abbiamo un... Insomma, noi ci rivolgiamo alle piccole e medie imprese. Cerchiamo di digitalizzare dei mercati chiaramente già esistenti all'interno dei quali andiamo ad intercettare dei need. Sì, noi intercettiamo dei bisogni. E poi le piccole e medie imprese, quelle che vengono chiamate self-employed o se vogliamo dire la italiana, l'autoimpiego, no? Quindi il professionista ha quasi tutti i problemi simili. Gestione finanziaria, gestione manageriale, la capacità di acquistare su larga scala. Quindi creando le piattaforme plug and play, ovvero la metti e parte, riusciamo a lavorare con tantissimi professionisti, renderlo quindi un business scalabile. Nel frattempo diamo una mano loro a digitalizzare e a sopravvivere in questo mondo che diventa complesso. Corretto. Che cosa abbiamo nel mirino? No, da qui al 2026, perché tu mi insegni che il 2026 si chiude l'operatività di Mamazen, si chiude l'operazione di H1 di investimento, rimangono poi gli anni successivi di disinvestimento, però tendenzialmente noi fino al 2026 opereremo come Mamazen creando start-up e come H1 andandone ad investire. Ti tocca sopportarmi altri tre anni, te ne rendi conto? Potrò essere molto forte. Quali sono, diciamo, le milestones, quelle importanti che abbiamo come holding? Siamo andati bene, fino ad ora. Nel senso che noi siamo partiti a fine 2018, dovevamo fare, dobbiamo fare 15 start-up, 5 le abbiamo fatte, ce ne sono ancora 10 da fare, 3 nel 2024, 3 nel 2025 e 4 nel 2026. Siamo giusti. Easy. Easy, lo sai. E stiamo facendo anche un grosso lavoro di raccolta, su cui io e te tendenzialmente siamo in prima linea, ed è una raccolta che invece si chiuderà tendenzialmente entro la fine del 2024. E anche lì siamo in linea, perché noi dobbiamo raccogliere 10 entro fine del 2024 e ne abbiamo raccolto già 4.2. 4.200 euro, siamo andati bene. Siamo andati molto bene. Siamo andati molto bene. No, 4 milioni e 10 milioni. Esatto. Una raccolta corposa. Corposa. che ci permetterà però di fare tutte quelle che sono le operazioni che abbiamo. Eh sì. Sai, per fare le cose ci vuole il legno. Per fare il legno. Ci vuole l'albero. Bene. Dottor Mamadi, io la ringrazio, mi ha fatto molto effetto fare questa intervista insieme a lei. No, mi sono divertito molto. Speriamo di fare un'altra chiacchierata così, magari tra qualche mese, e verso la fine dell'anno, così proviamo a tastarci il polso a vicenda e vediamo a che punto siamo della raccolta e della creazione star. Per vedere se siamo morti. Ci tastiamo morti. Speriamo di no. Speriamo di no. Dottor Mina, la ringrazio. Grazie mille. Arrivederci. Ciao.